Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Non significa che poi dovete arrivare alla colazione. Noi non possiamo aspettare i suoi comodi. E poi metteteci un altro pochettino di tempo. Torno indietro. Ci tolgo un altro pochettino di tempo. Le sto dicendo. Io dico una cosa. Lei ascolta. E punto. Ha presente cosa vuol dire punto? E la deve. Sì, ma quando una cosa... No, le ho detto di parlare. Quando una cosa non ti sta bene tu la devi dire, non è che ti sottometti. E allora vada a casa. Si trunga un compromesso. Signorino Scarano. Scarano, stai zitta. Io parlo quando voglio. Quando una cosa non mi sta bene io la dico. Sono sempre stata così. Non è che vengo qua e cambio. La sua cravatta non è a posto. E che c'è che... Non è a posto. Tanto bella. Allora, sa quando si parla? Quando le cose le facciamo per bene. E anche quando una cosa non ci sta bene? No, signorina. Perché non ci sta bene secondo la sua testa. Perché è troppo comodo fare come fa lei. No, no. Sto parlando io. Cos'è che non capisce? Niente. Si vede. No, io capisco tutto. Cioè, non lo intendiamo. Basta. Glielo vuole dire lei? Anzi, glielo dica lei. No, ma basta rispondere. Tanto lo cambia in me. E ho finito, eh. Se lui che continui. Sì, me lo so aspettarlo te. Quindi ora, basta. E ho finito. Scendiamo e ti sei zitta. Ok. Zitta o no? E invece sì. Allora, forza. Io direi che è ora di mettersi in fila. Andiamo. Ma che nello spazio. No. No. Sì. 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 Sì.